La cifra più alta che ho visto spendere su una macchinetta è già 5.000 euro sul giorno. Ha visto troppe persone rovinarsi la vita su quelle maledette slot. Storie di padri che perdevano i propri soldi e poi di seguito famiglie, amici, l'anima. L'esperienza che mi è rimasta più impressa è quella di un padre che è venuto a giocare con le macchinette doveva andare a prendere i lati per il figlio, piccolo, appena nato e alla fine si è mangiato tutto e è venuto a chiedere a me i soldi per il latte che gli ho dato e poi l'ho invitato a non passare più. Alessio Simonato, titolare del Caffè 74 a Caltana, ha deciso di togliere i videococker e mettere una libreria. Scelta che danneggia anche il suo di portafoglio ma che restituirà serenità a lui e ai suoi clienti. Va contro ovviamente gli interessi però non ce la facevo vedere sta gente così. Trovavo assurdo perdere soldi, in questo periodo di crisi no. Ogni avventore può prendere o lasciare un libro, ci si arricchisce così culturalmente, nella mente e nello spirito. È stata apprezzata perché in una settimana sono già partiti una decina di libri, anzi anche oggi sono partiti altri due, alcuni hanno portato altri libri, insomma c'è una sorta di condivisione molto bello.